Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Non c'è mercoledì senza topolino, e infatti anche questa settimana mi è arrivato, in tempi ragionevoli, praticamente il mercoledì stesso che dovrebbe essere il giorno solito di uscita, almeno in gran parte d'Italia. Allora, numero che mi ha svagato, ecco, sento di dire in questo caso specifico che questo album mi è servito molto per avere una mezz'oretta in cui mi sono lasciato alle spalle la quotidianità, insomma, quindi mi ha intrattenuto, ha raggiunto assolutamente uno degli obiettivi che un fumetto secondo me deve avere. Adesso, però, vi dirò due parole chiaramente sull'intero albo. Numero 3578. Abbiamo una copertina estiva, o quantomeno che richiama qualcosa relativo alla calura, perché si vedono topolino che protegge in qualche modo con un bastone da chissà quale pericolo, i suoi amici Clarabella e Orazio, che sono dietro di lui, a formare una sorta di triangolo, e li vediamo in un ambiente esotico, quindi fa pensare, come effettivamente si vedrà nella storia all'interno, che ci troviamo in un'isola, in un'isola tropicale. Chiaramente questa cover richiama la prima storia, che tra l'altro è in cinque parti, ma ne parleremo meglio fra un po', e i protagonisti non solo su loro tre c'è anche Minni, quindi all'inizio ho pensato perché Davide Cesarello, perché l'autore della cover non ci ha messo anche Minni, poi ho pensato che però effettivamente, essendo che i tre formano una sorta di triangolo, poteva essere una composizione fatta appositamente per questo motivo. Poi magari andando avanti nella lettura della storia ci saranno anche dei riferimenti più chiari a questo disegno, all'interno della narrazione. I colori sono molto interessanti, molto da ambiente tropicale, e quindi è una cover comunque che ha una sua mi piace. Purtroppo, ma questo è il solito discorso che facciamo, abbiamo sì Clarabella Ola, Orazio, due personaggi abbastanza secondari, e quindi questa è una bella cosa, però c'è sempre Topolino, e quindi rimane sempre la questione che Topolino, Paperino e Paperone, in qualche modo, in una cover ci devono essere sempre. Sono scelte editoriali. Allora, Donald Duck, in questo numero troviamo, per chi fosse interessato, la seconda parte delle bustine di figurine, quindi quattro bustine, che andrà avanti per altri due numeri, e poi sul Paperino, quindi siamo quasi a metà, nel senso settimana scorsa in realtà. Poi, Chiareghe tira a Topolinia, in questo caso con Topolino e Minni, che hanno il problema di doversi prendere una vacanza dalle vacanze. Allora, poi abbiamo questo editoriale d'Expertani, che è sostanzialmente incentrato sull'avvenimento, forse, dell'anno, perché no, che si avrà la prossima settimana, vale a dire, tanto lui lo chiama Epocale, la pubblicazione sul prossimo Topolino della storia del crossover tra Paperone e il mondo Marvel, che è stata recentemente edita negli Stati Uniti, ed è una collaborazione italo-statunitense, appunto. E quindi nel prossimo numero troveremo questa storia, a cui hanno partecipato, oltre ai dottori americani, anche Paolo Mottura, Francesco Dippoli, Tessandro Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi e Giada Persirinotto, Perissinotto, scusate, ma penso perché loro hanno fatto delle cover alternative, perché mi è sembrato di capire questo perché avevo visto qualche video su YouTube. Comunque, ne riparleremo meglio la prossima settimana. Quindi questo è un evento molto importante. Non vi dico altro perché ne voglio parlare in maniera specifica quando avrò l'albo sotto mano. Cesarello con, diciamo, lo sketch preparatorio della storia, e poi Servizi e Rubriche con Agenda della Settimana, la parola al Master, questo Francesco Lancia, speaker radiofonico, grande fan di Topolino, sinceramente non lo conosco, scusate ignoranza. Fumettando, Fabio Celoni ci presenta Paperone, anche in questo numero. Crescere emozionante, Inside Out 2, quindi che ritorna il 19 giugno. Io non conosco neanche Inside Out 1, abbiate pazienza, ma non seguo più certi programmi, certe opere, poi non ho neanche figli, quindi non sono neanche particolarmente attirato. Vita di un paperopolese, giochi e la storia del secolo, appunto, si parla di questa collaborazione tra Disney e Marvel. Poi le storie, Topolino, l'isola che non c'è, capitolo 1, la tempesta, e capitolo 2, l'isola della paura, di Giorgio Salati, Giampaolo Soldati, Simone Poloni e Manuel Giarolli. Veia Paperino e Danilo De Ninotti, Federico Franzè e Nicol Serra. Paperino e Paperoga Space Team, una piccola incomprensione, Tito Faraci, Marco Mazzarello e Deborah Grazio. Scusate, ma ho un po' di difficoltà a leggere i nomi. E poi Zio Poppernoli e la Gioco De Narite Contesa, di Vito Stabile, Francesco Guerrini, Putra, Sham, Bimbin, Abdi, Jalil. E poi Confessa in Gamba di Legno, la one shot che ha preso il posto di quella di Battista da poco tempo, Sgridate, Di Gagnor, Lomurno e Mauri. Allora, le storie sono praticamente 5 più quella 4, perché una in due parti, più quella breve di Gamba di Legno. La prima, l'isola che non c'è, che dà anche la copertina all'albo, e in questo caso è divisa in due parti, saranno 5 in totale. La prossima di attività le troveremo altre due, quindi si concluderà fra due numeri. Allora, la storia. La storia parte sostanzialmente da una crociera che Topolino, Minni, Orazio e Clarabella stanno facendo nei mari tropicali, praticamente, insieme a un gruppo variegato di persone. C'è anche questo capitano della nave, che si chiama... Allora, si chiama... Adesso ve lo dico quando me lo ricordo. E poi ci sono anche, diciamo, altri personaggi con loro. Un infermiere, una donna che... Un industriale, praticamente, che si è arricchita con la costruzione delle padelle. Poi una coppia di complottisti, insomma, è abbastanza variegata. E poi anche altri personaggi ci sono. Succede che improvvisamente c'è una tempesta, la nave in cui si trovano Naufraga e finisce in un'isola. E quindi da qui comincia un'avventura in cui i nostri amici Naufraghi si troveranno a dover, in qualche modo, cavarsela in un luogo ospitale che pare non essere abitato da nessuno, ma che riserverà loro delle sorprese anche inquietanti, perché a un certo punto ci saranno sparizioni di persone, anche di cibo, inizieranno ad esserci chiaramente delle liti tra le persone coinvolte, anche perché il comandante che ha Ferdinando, ecco, tenterà di dirigere anche lì il gruppo, ma non per un fine di comando fine a se stesso, appunto, ma perché vorrebbe mantenere un po' d'ordine. Chiaramente cominceranno ad esserci ribellioni, Topolino poi sarà, come sempre, importante perché cercherà di portare un po' di razionalità nella vicenda, e quindi queste prime due parti che si leggono e scorrono molto agevolmente in questa bella terra con questi bei disegni e colori, molto da clima estivo, molto da storie anni 90, perché un'altra caratteristica che ho trovato in questo in questo albo è che almeno a livello immaginifico mi ha fatto pensare ai Topolino estivi di quando ero bambino. E quindi si troveranno a dover sopravvivere in quest'isola che nasconde degli inquietanti segreti. Non vi dico altro perché chiaramente non voglio rovinare la lettura. Mi sono piaciute queste prime due parti perché comunque cominciano a mettere tanta carne al fuoco con questi misteri e con delle situazioni che apparentemente sembrano inspiegabili e senza una soluzione del caso. Speriamo che non si rovinerà con il proseguo. Mi sembra una storia comunque intrigante e che comunque si legge in maniera molto agevole. Disegni e colori al top, quindi ottima storia a tematica estiva. Agenda della settimana il 22 giugno, il 28 giugno, poi l'intervista a Francesco Lancia, questo speaker radiofonico che io non conosco sinceramente. Poi il Fabio Celoni che ci presenta Paperone lateralmente, quindi il solito articolo e poi sveglia Paperino. Questa è una storia molto divertente, mi è piaciuta e anche originale perché Paperino viene sgridato da Paperone, da Paperina e da un suo creditore con fruttivendolo perché dorme in continuazione e quindi non porta avanti i suoi doveri. La riuscita delle monete, portare Paperina in giro e saldare i debiti. In realtà lui perennemente con questo sonno eterno perché in realtà la notte fa ronda in quanto Paperinic. Chiaramente nessuno lo sa, ne lo deve sapere e quindi sembra semplicemente un pelandrone. I nipotini allora si metteranno di buona lena a cercare di aiutarlo costringendolo, tra virgolette, a svolgere le sue attività. E poi la storia si conclude in un certo modo che non vi racconto. È interessante lo spunto che viene dato a questa storia, anche questa molto fresca, molto leggera, molto da... ma non leggera in senso negativo, cioè che scorre molto agevolmente e che quindi fa rilassare. Ecco, questo numero mi ha fatto rilassare, anche della prima, nonostante sia una storia che ha in parte inquietante. In Inside Out 2 qui appunto non so di cosa si parli e poi abbiamo una micro storia di poche pagine, Paperina e Paperoga Space Team con... è una sorta di esperimento, secondo me, questo racconto. Abbiamo Paperina e Paperoga in un pianeta lontano, quindi come astronauti, che hanno un incontro con un misterioso alieno mostruoso che pare avercela con loro, ma forse non è proprio così. Storia, diciamo, che è particolare. Vita a Paperopolese, è un po' di pubblicazioni incartonate e non solo che escono quest'estate, è anche complice l'Europeo di Calcio. E poi Zio Paperone e la Gioco dei Narite Contesa. Questa è una storia che mi è piaciuta molto. ritorna il cuor di pietra fame d'oro che ogni tanto negli ultimi anni della gestione Bertali si è visto. Io l'avrò beccato forse una volta sola, ma prima praticamente non c'era mai, quindi per me è un personaggio praticamente nuovo sul topolino. I disegni di Francesco Ugherini mi ricordano molto alcuni stili degli anni 90, alcune storie degli anni 90, e quindi anche qui mi hanno fatto ricordare un po' queste cose. Abbiamo una disfida fra i due ricconi su chi si sappia divertire meglio utilizzando le proprie ricchezze. C'è non per esempio facendo viaggi, ma proprio utilizzando il denaro come per esempio Paperone fa i tuffi, costruire dei castelli all'interno del deposito. E quindi ne verrà fuori questa sfida per un motivo che non vi sto a raccontare. E poi ovviamente sappiamo come finirà. C'è poco da non spoilerare. Anche questa è una storia molto divertente e anche, diciamo, lo spunto del soggetto è interessante. Poi i giochi, la storia del secolo, questo lunghissimo articolo con l'intervista per la Garufia, Jason Erone, il sceneggiatore della storia americana, Alex Rossi, il fumettista e l'illustratore, e Lorenzo Pastrovicchio, il disegnatore italiano, insieme a Polo Mottura, Francesco Lippolito, Vitale Mangiatordi, Alessandro Pastrovicchi e Giada Perissinotto, che sono il team italiano. Ma avremo modo di parlarne ampiamente la prossima settimana. Questa è la retro cover, perché il topolino 3579 avrà una cover principale, è il retro cover in cui ci sarà questa storia capovolgendola, un po' come avveniva con le storie celebrative dei 100 anni. L'angolo dei lettori, qui c'è un omaggio a Walt Disney, e poi l'uscita del periodo è il numero 3579, con la copertina Work in Progress, ma secondo me rimarrà questa, anzi è sicuramente questa. Questa è la retro cover, appunto, che riprende la storia di Zio Paperone, il decino dell'infinito, che è questo crossover col mondo Marvel, e poi le storie fumetti, i misteri di Paperopoli, e Paperino Paperoco, il grande mirror hotel, di Bruno Sarda e Marco Palazzi, topolino di sola che non c'è, capitolo 3, la pietra dei misteri, e capitolo 4, la memoria di Flora, di Giorgio Salati e Gian Paolo Soldati, quindi le altre due parti, e si concluderà appunto sul numero successivo, e poi Paperino e l'appuntamento a pedali di Marco Bosco e Ottavio Panaro, e poi Zio Paperone e il decino dell'infinito di Jason Aaron, Paolo Mottura, Francesco Di Polito, Alessandro Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi, e Giada Perissinotto. Qua ricordiamo i sticker collection per i 90 anni di Paperino, quindi la seconda parte, come vi dicevo, e poi la one shot molto divertente con un barilegno che ancora una volta viene raggirato da Manetta e Basettoni per confessare, ma anche lo stesso Manetta non è consapevole fino a un certo punto. E poi quelle coins di Paperino, L6, in regalo un 45 euro di spesa sul sito Panini, come ne abbiamo già parlato, per festeggiare sempre i 90 anni di Paperino. E qua, Paperino Sport in edicola in questi giorni. Allora, un numero che mi ha molto rilassato, cioè mi è servito per ritagliarmi una buona mezz'ora. Le storie mi sono piaciute bene o male tutte. La prima di Topolino e l'isola che non c'è è interessante, perché comunque diciamo mette molta carne al fuoco e sinceramente non dà neanche molti molte anticipazioni in questi due numeri. Cioè mette tanti tanti tarli in testa, ma non viene anticipato niente sul proseguo, come giusto che sia. Sveglia Paperino mi è piaciuta per la presenza di, per l'utilizzo di questo, diciamo, di un aspetto di crearci sopra una storia su un aspetto tipico di Paperino, ossia il suo essere pigro, ma giustificato dall'essere Paperinic. La storia, una piccola incomprensione Space Team, niente di particolare, è più un esperimento di qualche pagina, ma ci può stare assolutamente. E Zio Paperale è il gioco della vita contesa, anche questa è una storia che mi è piaciuta con questa disfida con Corripietra, quindi ogni tanto non abbiamo Rockerrack, abbiamo Corripietra e poi sgridate, carina la storia One Shot, quindi tutte storie che mi sono piaciute. Ora, non sono certamente dei capolavori assoluti, però sono le storie valide di livello, scritte e disegnate bene, molto anni 90 sotto certi aspetti e quindi a me sono piaciute particolarmente da questo punto di vista, ma il numero mi ha veramente intrattenuto e quindi anche questo è una delle caratteristiche di un fumetto e sicuramente di Topolino. Ci vediamo col prossimo video.